Sono Nicola Gasperini, mi occupo degli allestimenti delle scenografie del Festival e di tutta l'organizzazione che riguarda gli spazi esterni urbani soprattutto, dove andiamo a cercare di riportare più o meno nei luoghi che più si addicono al gioco che scegliamo, anche se ci rendiamo conto che è un po' una sorta di vetrina, il gioco sta bene nel proprio territorio, questo lo sappiamo, però la parte importante del Festival è dare un senso anche agli spazi della città che a volte non sono molto conosciuti, il nostro scopo è di far riscoprire quegli spazi che normalmente sono occupati dal traffico automobilistico oppure dalle attività tipiche della città troppo spesso votate soltanto al commercio, quindi una città che di per sé è ricchissima, lo spazio per noi è concepito come molto malleabile e il gioco, non c'è niente come il gioco che riesce a dissacrare gli spazi tra virgolette tipici della città.